Compie vent'anni alla guida della Trevalli Varesine come presidente della società ciclistica Alfredo Binda, Renzo Oldani. È grande festa Busto, oggi queste ragazze meravigliose che fanno onore allo sport del ciclismo sono partite questa mattina da Busto Arsizio con arrivo a Varese. Una grande copertura mediatica, tre ore di diretta televisiva, inimmaginabile per una corsa femminile, tre ore di diretta è molto importante. Abbiamo visto volare gli elicotteri sopra Busto Arsizio, questa è una cartolina non solo per il ciclismo ma sicuramente un indotto del turismo importantissimo. Già domenica noi a Varese con la Gran Fondo Trevalli Varesine è un grande successo, più di 3.000 partenti, 250 solo iscritti da tutto il mondo. Siamo più che felici, adesso la cosa più importante per noi in questo momento è la sicurezza, non lasciarsi andare fino all'ultimo momento. L'importante per noi è la sicurezza e che tutto vada bene, poi vinca come si dice il migliore, è una grande festa per Varese e per Busto.